Sere 31, sì... Sì, dai, vabbè! Se ganditi, voi fa! Lo siamo a dire, no? Se ganditi, a dove face, che affa la barba, adesso mette, alla mattina, a quale vento, c'è il bene e il cerve, poi 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 fa spaccolino, fa 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 l'occhetta, Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Donne, a tutti. 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 a tutti.